Ora vi propongo un giro molto veloce in cui ciascuno di noi a partire da me dirà il proprio nome e abbinerà il proprio nome in un gesto e il resto del gruppo ripeterà sia il gesto che il nome. Il gesto da abbinare al nome deve essere qualcosa di attinente alla vostra emotività, al sentimento che avete provato nel momento in cui avete acceso il fiammi, per quello che vi ha evocato. Il nome non va detto ma va cantato. E si fa il giro. Dopo che l'ho fatto e l'ho detto. C'è il giro. C'è il giro. C'è il giro. Braghela, Braghela Braghela, Braghela Abbraccio, abbraccio Abbraccio, abbraccio Poccolino Poccolino Braghela, Braghela Braghela, Braghela Braghela, Braghela Braghela, Braghela Braghela, Braghela Braghela, Braghela 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 ginseng ginseng gironzola gironzola fiolica fiolica pataca pataca salsalzito salsalzito ginseng 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 Rock-a-la-cam! Rock-a-la-cam! Grazie!